Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua per parlare di tennis come di consueto, oggi siamo qua per parlare di quanto è successo la scorsa settimana più o meno andare a fare un recappone generale e di ciò che significa questa terza posizione di Yenick Sinner nella TP Ranking. Ragazzi, in primis, annuncio molto importante, vi chiedo scusa se in questo video sarò poco elettrico, delle volte sembra un po' fuori forma sotto un certo aspetto, ma ragazzi ho mal di testa, forse ho anche la febbre, non lo so. Questo fine settimana mi sono ammazzato di allenamento tra corse e tennis e ragazzi ho dei dolori, quadricipidi bestiali, la vescica vabbè, super sinistro, amen, ma principalmente l'altro problema è che ho mal di testa adesso, quindi spero di non fare tante gaffe, ma comunque spero che abbia apprezzato il video ugualmente. Prima di passare al video di oggi vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, è importantissimo, questo siamo a 394, arrivare a 400 entro la fine di febbraio sarebbe un sogno, io mi auguro che diventi anche una realtà visto e considerato che serve semplicemente un piccolo step in più equivalente a 6 iscritti che credo che voi possiate farmi. Vi invito ad iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare un like, condividere e commentare. Come detto, in questo video si parlerebbe un po' di tutto quello che è accaduto scorsa settimana, ma adesso mi soffermerai un attimo sul parlare di Sinner, quindi partiamo con Yannick Sinner, ovviamente è la notizia, è l'uomo del momento, è l'uomo degli ultimi sei mesi in Italia, io adesso credo che sia la persona più famosa di questo paese, non vorrei andare adesso a dire castronerie o sciocchezze, ma io mi immagino che Sinner sia tanto venuto per me 3. Allora, Sinner vincendo Rotterdam ci fa capire molte cose, uno non si è montato la testa, ma quello ragazzi ovviamente già lo sapevamo, che Yannick non si è sempre montato la testa perché una cosa la si capisce subito, non si è montato la testa, e due che ha ancora moltissima fame di migliorare ragazzi, la qualità più grande secondo me di questo ragazzo è tutta la fame e la voglia che ha di continuare a migliorare ogni giorno, la sua mentalità è un qualcosa che dovrebbe essere secondo me cognato, perché veramente ognuno, secondo me possiamo tutti imparare molto da questo ragazzo, non dimentichiamoci che è giovanissimo, ha soltanto 22 anni, eppure dimostra una maturità, una compostezza in campo da un veterano, invece sono un ragazzino che ha appena 22 anni, per quanto a me sembrano tanti visto che io ne ho ben 7 in meno, però non voglio ovviamente fare parecone che non mi appartengono in alcun modo, quindi mi stavo dicendo, la compostezza di Sinner è stata veramente bellissima. Commentiamo un attimo, breve recap di quello che ha fatto nel 500 di Rotterdam, è partito dalla prima partita con la compro di Cevande Zanskulp, forse è stata addirittura la prestazione migliore del torneo con cui sia la prestazione più dominante, Sinner in questo torneo diciamo che ha dato l'idea di manifestare superiorità, e vi spiego in che senso manifestare superiorità, perché pur giocando a un 60, 70, 80 magari in alcuni tratti, per cento delle sue potenzialità e delle sue capacità, è riuscito a vincere comunque sia il torneo, è andato a perdere un solo set in 5 incontri, Raonic ci si è arrivato, è vero, ma comunque sia, resta un set in 9, un set perso su 10 giocati, fidatevi che non è pochissimo. Si parla sempre di un ATP 500, quindi secondo me bisogna dare meriti al Sinner per aver fatto sembrare semplice un successo che non lo era affatto. Altri motivi per il quale non era semplice vincere questo torneo, ovviamente sempre perché è un torneo da professionisti, è un 500, ma quello insomma non lo dico nemmeno perché credo sia ovvio, credo che sia sottinteso, ma oltre a ciò io voglio anche dirvi che secondo me il merito che ha Sinner è aver fatto sembrare semplice questo torneo, perché obiettivamente ce l'ha fatto sembrare semplice quando non lo è stato e non lo è affatto, non lo era affatto. Prima partita con Baden Sarskup, poi ha dovuto battere Monfilz, poi Raonic, il quale si è ritirato solo uno pari del secondo set, secondo me quello è stato il ritiro più preventivo di Milos Raonic, ed è secondo me stata la scelta corretta da parte sua, non perché non potesse continuare a giocare, perché credo che avesse le capacità fisiche per continuare a farlo, ma più che altro visto il suo record di infortuni, visto tutti gli infortuni che ha avuto nel passato lustro, nei passati anni in generale, credo che abbia fatto la scelta corretta a non proseguire la sua partita con Sinner, secondo me almeno ha fatto la scelta giusta. Poi ha avuto la semifinale con Talon Grigspur e la finale con Deminale. Un'altra statistica che voglio riportarvi, che è molto interessante, è che Sinner è il primo tennista in 23 anni a vincere il suo primo torno dopo aver vinto il suo primo slam, cosa che fece Leighton Hewitt nel 2001, che dopo aver vinto l'Open degli Stati Uniti vinse anche Tokyo, adesso è stato Sinner a farlo. Alcaraz non l'ha fatto, Alcaraz ha vinto lo Yoesop, e lo fa perso subito da Augele e Sim 3 giorni dopo, Djokovic non l'ha fatto, dopo la semifinale 2008, non l'ha fatto Federer e non l'ha fatto Nadal. Quindi questo ci fa capire di che magnitudine è questo risultato di Sinner. Poi, altro dato statistico da riportare assolutamente, è il primo tennista dell'era Open, quindi sono, facciamo un po' il conto, nel 1968, esattamente il 22 prima del 1968, andando un po' a fare i calcoli, sono quasi 56 anni, 55, 8 mesi, insomma, e 10 mesi, insomma, quindi cambia poco. In quasi 56 anni, quindi oltre metà secolo, l'unico italiano in top 3 del ranking maschile è stato Sinner. E questo, ragazzi, parla, parla da solo questo risultato, secondo me. Ci fa capire quanto Sinner stia aiutando tantissimo il tennis. Io ci tengo, anche se Sinner non lo vedrà mai questo video, nemmeno nessuno vicino a lui, io ci tengo, il mio momento addirittura di prendere la responsabilità a nome praticamente di tutti i canali italiani, o tantomeno il nome dei miei canali, dei miei collaboratori amici, del Salottino, che Sinner sta aiutando tantissimo i canali di tennis e sta aiutando in generale tantissimo il movimento tennistico in Italia. Dopo che ha vinto la Staten Open, le iscrizioni, le scuole tennis a Milano aumentarono dal 30%, una cosa di un'altra molto importante, del quale bisogna parlare, da mio avviso. Quindi Sinner sta sta portando uno sport nelle case degli italiani e questa è una cosa da fenomeno. Da fenomeno perché? Perché lui è uno, gli italiani sono di circa 59-58 milioni, adesso non so il numero esatto, però per Sinner, quasi nell'ordine dei 60 milioni, poco meno, e se tu porti qualche milioncino in più a livello di persona a vedere le partite, significa che stai facendo un lavoro pazzesco e quindi io ci tengo assolutamente a ringraziarti e a ringraziare a tutte le persone che lavorano insieme, a Sinner dietro le quinte, quindi tutto il suo team, tutte le persone che lo hanno creato, i suoi genitori e tutto, perché veramente Sinner è un ragazzo d'oro, perché ha insegnato molte cose, insomma, molte sue frasi sono state fantastiche, ha detto che più della posizione in sé, questo dopo aver vinto il 500 di Rotterdam, ha detto che più della posizione in sé, quello che lui interessa è ispirare più ragazzi, più giovani, a prendere una racchetta in mano e questo ragazzi gli fa assolutamente onore, sono frasi da vero, da vero comunicatore, da vero portabandiera, insomma, quindi assolutamente complimenti per Sinner. Dopo questo preambolo su Sinner, contorniamo e concludiamo questo video, spero di non averlo fatto troppo lungo, con quello che è successo oltre a Sinner, perché abbiamo 250 di Córdoba, torneo nel quale 250 di Buenos Aires, scusatemi, torneo nel quale c'è stata una grandissima sorpresa, l'eliminazione di Carlos Alcaraz in semifinale ai danni di Nicolas Gerry, ragazzi, Alcaraz conferma il suo periodo nozzo, ma Alcaraz ci fa capire che non è ancora tornato quello di Wimbledon e quello pre-Wimbledon anche, insomma, è un Alcaraz secondo me che si è un po' troppo fissato con Djokovic, come hanno detto molti utenti, non sotto nei miei video, ma in generale sotto nei video della community del tennis in generale, non solo con l'italiano, ma anche con l'internazionale e Djokovic è il numero uno. Secondo me Alcaraz deve magari pensare più a se stesso e tentare di ignorare, perché è un giocatore che ha delle doti tecniche che solo lui ha. È un giocatore di una completezza pazzesca, perché sin, scusatemi, Alcaraz e anche sin sa fare tutto, quindi secondo me dovrebbe concentrarsi più a se stesso. Comunque sia, nel 2-5-4 di Buenos Aires ha vinto Diaz Acosta in finale contro Nicolas Gerri e anche questa è una sorpresa, perché francamente dopo che ha battuto Alcaraz ci aspettavamo, non voglio adesso parlare a nome di tutti perché non mi sembra corretto, ma tanto più non mi aspettavo una sua vittoria. Il 2-5-4 di Delray Beach si deve concludere oggi a causa di un posticipo via pioggia, giocheranno Fritz e Paul in finale e dove vince a Fritz, poi abbiamo anche togliamo indietro, abbiamo il il 2-5-4 di Los Campos che stanno giocando le qualificazioni, il 1-1-2 di Dubai stanno giocando le qualificazioni, ci manca soltanto il 1-1-1 di il 1-1-2 di il 1-1 di il WTA 1-1 di Catariota dove ha vinto Iga Shbiontek 2-7-0. Successo meritato, prima donna a difendere il suo titolo per tre volte dopo Serena Williams quando vinse il Miami Open nel 2013 al 2015. Insomma, Iga Shbiontek con questo successo si è un attimo ripresa dopo il bruttissimo Open Australia. Vediamo cosa succederà nel 1-1 di Dubai, io sono molto curioso perché secondo me Sabalenka ha molte chance di vincere ma ne ha anche Shbiontek indubbiamente. Sabalenka è una che gioca un po' meno partite di Shbiontek per andarsi a concentrare per andare a centellinare le energie sui torni dei grandi slams. Ragazzi, spero di non avervi annoiato, spero di non aver commesso troppi errori, spero, ho anche il naso tappato quindi spero di non aver reso il video noioso comunque sia disturbato ma mi auguro che non sia stato a caso vi ringrazio tantissimo per la visione come sempre mi raccomando iscrivetevi arriviamo a 400 io come sempre vi ringrazio perché non posso fare altro che questo. Grazie a tutti ci si vede domani con un nuovo video ciao!